Buongiorno, sono Andrea Mansueti, Regional Program Manager di GMI, grazie all'ospitalità di Pirex e Google Lab, oggi abbiamo l'opportunità di far vedere per la prima volta al pubblico la nostra tecnologia Millimeter Wave che offre copertura al 5G private network nei locali del Pirex all'Officio Poblini. Lo scopo in particolare del boot è quello di far vedere le massime prestazioni in uplink e in downlink che si possono raggiungere con il nostro pannello Millimeter Wave che sfrutta una polarizzazione circolare utilizzata per l'intor e che ha anche la tecnologia del digital deforming. Oltre a questo, con la tecnologia Millimeter Wave FG gestiamo anche gli AGV che controllano logistica interna della stanza. Grazie a tutti!